Noi vediamo il bicchiere mezzo pieno e voi venite a degustare i vini italiani premiati alla Tuia d'Or e al Festival delle Sagre assaporate il gusto della tradizione Asti 7-16 settembre Cresce la febbre per il paglio di Asti, ieri tanti ragazzi e tanti bambini uscendo dalle scuole si sono fermati in piazza Alfieri per assistere ai primi giri di prova dei fantini e dei cavalli, i più organizzati sono apparsi supporter di Tanaro che hanno riempito la tribuna centrale fin dalle ore 14, d'altra parte il cavallo di Tanaro montato da Pusceddu anche per come si è mosso ieri durante i 20 minuti a disposizione appare fra i favoriti di questa edizione insieme ai rivali di San Secondo. Tra i favori dei pronostici c'è anche la torretta mentre secondo gli ultimi sondaggi sono buone anche le possibilità per Santa Maria Nuova, San Martino San Rocco e Cattedrale. In ogni caso si sa qualsiasi pronostico per il paglio è sempre impossibile, di certo non staranno a guardare tutti gli altri a cominciare da Via Tosto e da San Damiano ancora carico per il grande successo dell'anno scorso. Oggi la pista è rimasta a disposizione delle riserve e anche il capitano del paglio Mario Vespa come vediamo dalle nostre immagini ha assaggiato il terreno di gara. Il capitano dunque pronto così come il mossiere Renato Bircolotti. Questa sera impazzeranno le cene propiziatorie e domani sarà il grande giorno del paglio di Asti. E sono pronte anche le nostre telecamere di Asti TV. Domani a partire dalle ore 15 saranno inseriti online i primi video filmati del paglio. Prima il corteo storico quindi la prima batteria e a seguire le altre due eliminatorie. Pochi minuti dopo il taglio del traguardo da parte del vincitore sarà subito inserita la finalissima da PC, tablet e smartphone. Si può dunque seguire tutto il paglio di Asti all'indirizzo www.astitv.it. Ed ora parliamo di calcio. Ieri allo stadio comunale Censin-Bosia il Torino si è aggiudicato il 25esimo torneo nazionale Memorial Paolo Ferrari. Nel triangolare finale la formazione Beretti del Toro ha superato il Varese Primavera e l'Alessandria Beretti. E tra i tanti appassionati di calcio sicuramente meritano una citazione quanti praticano l'attività dilettantistica, quelle società, quei dirigenti e quei calciatori che tra molte difficoltà ma con tanto entusiasmo e passione frequentano i campionati del nostro territorio. Domani inizia ufficialmente il campionato di seconda categoria e la settimana prossima prenderà il via la terza. Noi abbiamo sentito il presidente del Cagliano che domani al debutto in seconda categoria incontrerà il quattordio. Speriamo con tutto il cuore di poter il prossimo anno accedere alla prima categoria perché la mia ambizione, essendo di Moncalvo, voglio fare il derby con il Moncalvo. Abbiamo degli ottimi elementi che vengono da alcune società e questi ottimi elementi sono stati acquistati dal nostro direttore sportivo Albieri Alberto. Cosa vuol dire gestire una società sportiva di dilettantistica oggi? Vuol dire anche perdere parecchio tempo del proprio lavoro perché quasi tutte le domeniche io sono impegnato, poi anche durante la settimana alcune riunioni, per sempre per seguire questa squadra. Cosa è che spinge a questa cosa? A me ha spinto tanto le amicizie che ci sono state a Cagliano perché non me ne intendo ancora adesso, è di calcio, però sono entrato da cinque anni nel calcio. Sono entrato per questi amici che ho tutti a Cagliano come il vice sindaco, il nostro mister Andrea Cuniberti, come il direttore sportivo Albieri Alberto, come amicizie. Ricordiamo solo più velocemente in chiusura gli altri incontri in programma domani in seconda categoria. Castelnuovo-Belbo contro Quarniento, Cerro-Tanaro contro Luese, Montiglio contro Nicese, Spartac San Damiano contro Buttiglierese e Union Rucquet contro Pro Valfenera. E con questo, qui da Asti, con le notizie dell'Astigiano è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni. Noi vediamo il bicchiere mezzo pieno. E voi? Venite a degustare i vini italiani premiati alla tuia d'or. E al Festival delle Sagre, assaporate il gusto della tradizione. Asti, 7-16 settembre.